A Villa Donia nel 2024 opere pubbliche per 2 milioni e mezzo di euro tra gli interventi più importanti, la pista ciclabile verso Ordesio, la messa in sicurezza dell'incrocio festi rasini e la sistemazione dell'edificio della biblioteca. A Castione della Presolana è già record per i mercatini di Natale, con il ponte dell'Immacolata toccata quota 130 mila presenze e superato il primato della ventesima edizione. A 91 anni Gianni Salvoldi, originario di Premolo e residente a Clusone, è il maestro di sci in attività più longevo d'Italia, premiato in Regione. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa Carrara ha convalidato il fermo di Alfredo Zenucchi. Il 57enne originario di Peia accusato dell'omicidio della moglie Rossella Cominotti, 53 anni, trovata morta in una stanza d'albergo a Mattarana in provincia di La Spezia. Il giudice ora dovrebbe confermare la propria incompetenza e passare il fascicolo alla procura di La Spezia. Cambiamo argomento. Nella mattinata di sabato i carabinieri della stazione di Clusone hanno tratto in arresto per detenzione illecita di armi e munizioni un cittadino italiano, classe 1987, pregiudicato per reati specifici e lesioni personali. La vicenda trae origine da informazioni acquisite dai militari circa presunti maltrattamenti perpetrati negli ultimi tre mesi dall'uomo nei confronti della convivente e circa la presenza nell'abitazione di armi. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato nella disponibilità dell'uomo due fucili da caccia, una carabina d'aria compressa, circa 500 proiettili di vario calibro, tre coltelli della serie Rambo con lama dai 22 ai 30 centimetri. Tutto il materiale è stato sequestrato perché mai denunciato e perché l'arrestato non possiede alcun titolo autorizzativo di polizia. L'uomo avrebbe giustificato il possesso dell'arsenale facendo riferimento a una passione da collezionista per le armi. Non sarebbero invece emersi riscontri in riferimento ai presunti maltrattamenti in famiglia. L'arrestato su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari. Chiudiamo con la cronaca, proseguiamo con il nostro telegiornale, la pista ciclabile verso Ardesio, la messa in sicurezza dell'incrocio Festi-Rasini, la sistemazione dell'edificio della biblioteca. Sono alcuni degli interventi più importanti in programma a Villadogna nel 2024. Ne abbiamo parlato con il sindaco Luca Pendezza. Nell'ultimo Consiglio Comunale di Villadogna è stato approvato il piano delle opere pubbliche. Quali sono i principali interventi che vedranno impegnato il Comune nel corso del 2024? Sì, un piano delle opere pubbliche particolarmente importante. Stiamo parlando di opere pubbliche previste per il 2024 a Villadogna intorno ai 2 milioni e mezzo di euro, quindi davvero opere importanti. L'opera sicuramente più onerosa è la realizzazione della pista ciclopedonale che partirà da Villadogna e arriverà ad Ardesio. Stiamo parlando di un intervento di circa un milione di euro. Siamo legati a un bando ottenuto dalla comunità montana e un bando regionale ottenuto appunto dalla comunità montana. Quindi abbiamo delle tempistiche abbastanza stringenti e prevediamo di realizzarlo appunto nel 2024. Andremo poi finalmente a... inizieranno i lavori di messa in sicurezza, efficientamento e ammodernamento dei locali attualmente serie della biblioteca e delle associazioni. Quindi il primo lotto, stiamo parlando di 493 mili euro, quindi rifacimento completo delle facciate esterne che come sappiamo ha bisogno di un intervento urgente e la sistemazione messa in sicurezza e rifacimento degli impianti del piano terra. Poi sempre nel mese di gennaio partiranno anche i lavori di realizzazione della mensa, dei nuovi locali della mensa dietro la nostra scuola primaria. Appunto partiranno a gennaio stiamo parlando di 330 mila euro di intervento. Come dicevo anche in un'altra intervista poi sempre nel 2024, nei primi mesi del 2024, verrà rinnovata la Pensilina, il bar stazione Pensilina che come sappiamo è un immobile di proprietà comunale e quindi abbiamo deciso di intervenire prima della gestione del nuovo affidatario con questo intervento di 150 mila euro. Poi andremo a intervenire anche sul fiume Serio e sull'Ogna, interventi ottenuti con un finanziamento di protezione civile, 100 mila euro sul fiume Serio e 50 mila euro sull'Ogna, sono lavori che sono in fase di affidamento. Poi andremo a intervenire sul piazzale adiacente al campo sportivo e località Festi Rasini con un intervento di rifacimento del piazzale e asfaltatura, stiamo parlando di poco più di 60 mila euro e poi un intervento importante è quello dell'incrocio in località Festi Rasini, quindi l'incrocio di ingresso alla frazione. Qui stiamo parlando di un intervento di 150 mila euro. I lavori partiranno successivamente alla conclusione dei lavori, questa volta in capo agli attuatori del piano integrato Festi Rasini, di rifacimento della strada di ingresso appunto alla frazione Cesare Rasini. Questi ultimi lavori partiranno nel mese di gennaio, subito dopo le feste, quindi il rifacimento completo della strada con i sottoservizi. Terminati questi lavori che probabilmente dureranno qualche mese, partiremo poi con la messa in sicurezza anche dell'incrocio in località Festi Rasini, particolarmente importante per noi in quanto incrocio pericoloso e necessita appunto una messa in sicurezza. Natale è tempo anche di regali, di acquisti. Dal sindaco di Clusone Massimo Morstabilini un appello a sostenere il commercio locale. Ormai è tempo di Natale, quindi tempo di regali, tempo di acquisti e diventa anche un'occasione per sostenere i negozi dei nostri comuni, del territorio, un concetto che voleva ribadire anche il sindaco di Clusone. Esattamente abbiamo cercato di fare, di regalare, di regalarci un Natale all'insegna della comunità e quindi abbiamo visto la casa di Babbo Natale, i mercatini, le luminarie, il filo di fusione, tutto quanto e quello che rimane adesso da fare da parte di tutti è proprio darci un po' una mano e quindi l'invito che faccio a tutti i cittadini, non solo di Clusone ma di tutto il territorio è di rivolgere i propri acquisti ai negozi locali, quindi ai nostri commercianti. Questa cosa è una cosa molto importante che ovviamente aiuterebbe un po' tutti perché noi andiamo a comprare dai commercianti, poi i commercianti ovviamente questi soldi li rispendono ancora nelle nostre attività. Chi chiama l'elettricista del posto, chi l'idraulico, chi il professionista e quindi di fatto è tutto un circolo virtuoso che va un po' a vantaggio di tutti. Le nostre botteghe tra l'altro sono botteghe di qualità, sono botteghe dove andare a comprare è sempre un piacere, dove si possono scambiare anche quattro chiacchiere e farsi gli auguri. Ecco l'invito è proprio quello, non a rivolgersi a internet e quindi a delle aziende lontane che hanno poco a che vedere con il nostro territorio ma proprio darci una mano tutti e quindi per i nostri regali di Natale, ma questo poi vale sempre. Invece rivolgerci appunto ai nostri esercizi locali, di sicuro loro ne hanno bisogno e come ho spiegato prima questa cosa va a vantaggio di tutti. Ci spostiamo ad Albino all'Istituto Romero dove siamo stati in visita per parlare con i ragazzi che seguono il progetto Rondine. L'obiettivo è quello di facilitare la crescita e le relazioni dei ragazzi nell'età delicata dell'adolescenza grazie anche ad un tutor. Sentiamo. Progetto speciale da parte dell'Istituto Romero, andiamo a conoscerlo, una delle vostre eccellenze. Sì decisamente, il progetto Rondine è una sperimentazione che è stata proposta dalla cittadella della pace appunto di Rondine, un'associazione che da parecchi anni, da più di vent'anni cerca di costruire la pace in un modo estremamente originale, nel senso che ospitano a Rondine ragazzi provenienti da paesi, da popoli in guerra per aiutarli a superare il conflitto che è anche un conflitto personale alla fine. Liliana Segre tre anni fa, amica di Rondine, ha proposto all'associazione di portare questo metodo dentro le scuole italiane, quindi di portarlo fuori da Rondine. Noi abbiamo accolto immediatamente l'invito, devo dire che già la nostra scuola da anni lavora nella direzione del costruire relazioni positive tra le persone, nel superare l'idea del nemico che è proprio un po' l'obiettivo di Rondine e quindi un gruppo di docenti che costituiscono un consiglio di classe hanno frequentato un percorso di formazione molto serio e impegnativo, c'è la supervisione anche di università, c'è un metodo, è codificato e così lo scorso anno abbiamo potuto partire con una classe terza che appunto quest'anno è una classe quarta dell'indirizzo delle scienze umane quest'anno è partita anche una classe terza e così l'anno prossimo in realtà diventa un progetto triennale dentro l'istituto, dentro il percorso delle scienze umane. È un po' organizzato. Sì, durante questo percorso i ragazzi fanno diverse tappe, inizialmente cominciano a conoscere se stessi e le loro potenzialità, i loro talenti ma anche i loro punti di debolezza per rielaborarli insieme con l'aiuto dei docenti del consiglio di classe e anche di una figura che è molto importante dentro il progetto Rondine che è la figura del tutor, un facilitatore diciamo delle relazioni che incontra i ragazzi e i docenti sia durante le ore di lezione sia al di fuori. Bisogna precisare che questa sperimentazione non modifica assolutamente il programma di studi né insomma il progetto didattico della classe per cui i ragazzi comunque seguono il loro percorso ma diciamo con un enorme valore aggiunto che è quello appunto di conoscere prima se stessi ma poi nella relazione con l'altro e di andare a costruire dei progetti sul territorio che portino questa idea del conflitto come qualcosa di fisiologico all'interno delle relazioni ma che deve essere come dire interpretato come qualche cosa che può generare nuove relazioni e non come qualcosa di distruttivo o appunto che comporti l'odio per l'altro. Lo abbiamo già visto nei giorni scorsi è stato un ponte dell'Immacolata con il pienone nelle nostre località turistiche a Castione grazie alle presenze del fine settimana i mercatini di Natale hanno già stabilito un nuovo record. A Castione della Presolana i mercatini di Natale hanno già conquistato un altro record prima ancora della chiusura è stato superato il primato delle 120.000 presenze stabilito lo scorso anno in occasione della ventesima edizione. Il ponte dell'Immacolata ha permesso di toccare quota 130.000 un traguardo mai raggiunto fino ad ora. Del resto è stato davvero un ponte da record ai piedi della Presolana. Migliaia i turisti che hanno raggiunto Castione sia per approfittare dell'apertura delle stazioni sciistiche non solo della Presolana e del Monte Pora ma anche di Colere sia per fare un giro tra le casette allestite in piazzale Donizetti. Tanti anche i pullman intere e comitive dalla Lombardia ma anche da Vicenza e da Piacenza. Il massiccio afflusso di turisti e visitatori ha mandato in tilt la viabilità del paese. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 circa 10.000 veicoli sono transitati da Castione. L'amministrazione comunale è intervenuta rafforzando nella giornata di domenica la presenza della polizia locale nei punti più critici in modo da smaltire il traffico. Per i mercatini resta ancora un fine settimana d'apertura, quello del 16 e 17 dicembre. Sarà l'ultima occasione per scoprire le proposte dei 35 espositori presenti quest'anno ma anche per visitare la casa di Babbo Natale e partecipare alle altre iniziative collaterali. Gli ultimi due giorni d'apertura vedranno ospiti due gruppi folcloristici bergamaschi, il 16 le donne dell'era e i musici, il 17 per la prima volta i mercatini di Castione, i gioppini di Bergamo. Una domenica di sole, anche fredda nel centro di Leffe per le tantissime persone che hanno preso parte a Leffe Inverno. Andiamo a vedere com'è andata nel servizio di Simone Masper. Leffe Inverno è una tradizione sempre sentita, si riempiono i mercatini nel centro del paese, tantissime iniziative. Sì, ritorno alla terza edizione di Leffe Inverno, il paese dei Balocchi. L'abbiamo soprannominata così proprio perché abbiamo voluto ricreare un vero paese dei Balocchi. Quindi un sacco di attrazioni, gonfiabili, giostrine, zucchero filato, frittelle, tutto gratis per i bambini. Un vero paese dei Balocchi, tra l'altro quest'anno abbiamo aggiunto anche il giro con i poni, il recinto degli animali. Quindi una vera giornata in allegria per i bambini. Nel segno della tradizione pensiamo al mercato dei prodotti chilometro zero innanzitutto. Sì, per noi questo è un tasto molto importante per noi perché ci abbiamo sempre creduto. Insieme al gruppo Rete Umana per il secondo anno abbiamo organizzato in Piazzetta Servalli questo ritrovo di tutti i nostri commercianti che producono prodotti a chilometro zero. Poi nel pomeriggio c'è stato anche l'appuntamento ormai molto sentito, questa staffetta particolare. Sì, grazie alla collaborazione con il gruppo ricreativo dell'Oratorio San Martino. Siamo alla terza edizione della Ski Cup Edition, praticamente una corsa a staffette di sei squadre che si vedranno contendere un po' questa gara lungo un tracciato delle vie del paese e poi alla fine verranno segnate diverse prime azioni. In sinergia tra comune, alpini, associazioni presenti anche in tutti i mercatini. Sì, una grande sinergia, come detto bene, comune, alpini, commercianti e varie associazioni, CAI e tutto quanto. Come ripeto spesso e volentieri, l'unione fa la forza, se ci si unisce le cose vengono meglio e diventano anche più interessanti e crea comunque comunità. È anche la giornata finale della lotteria che ha visto protagonisti i commercianti di questa bella iniziativa. Sì, devo ringraziare tanto molti commercianti leffesi perché tanti hanno aderito per diversi anni, stanno organizzando la lotteria premi che si inizia di solito verso fine novembre, 25 di novembre, si protrae fino al giorno prima dell'evento. E tutte le volte che ci si ricava in queste attività commerciali che aderivano all'iniziativa, si riceveva un biglietto. Oggi pomeriggio alle 5 ci sarà l'assegnazione di tutti i premi messi in paglio, che sono 10 premi, uno più bello e interessante di quell'altro. Il gruppo Alpini Leff è oggi protagonista, alietate un po' questa giornata e avete organizzato insieme al Comune. Sì, il Comune quest'anno ha chiesto la nostra partecipazione per l'organizzazione di tutti gli eventi di oggi del mercatino e noi abbiamo accettato molto volentieri. Noi normalmente abbiamo il nostro stand dove facciamo bimbroulet, panettone, wuster, le solite cose. E' un paio d'anni che facciamo anche il pranzo, un pranzo organizzato sempre all'interno degli Alpini, all'interno dell'ex oratorio e su prenotazione. Quanta gente al pranzo, quanti Alpini sono impegnati oggi? Oggi tra Alpini, amici degli Alpini, mogli, amiche varie, sono una quindicina di persone impegnate e oggi si prevede un bel afflusso di gente. Il pranzo ho subito la notazione per 50 persone e siamo sold out. Abita a Clusone, il maestro di sci ancora in attività più longevo d'Italia. A novembre Gianni Salvoldi è stato premiato dal Collegio dei Maestri di Sci della Lombardia. Nei giorni scorsi un altro riconoscimento in regione. Gianni Salvoldi, 91 anni e ad oggi il maestro di sci in attività più longevo d'Italia. è stato premiato in regione Lombardia. Originario di Premolo e residente a Clusone, Gianni Salvoldi, dopo aver fatto il contadino, il falegname, il carpentiere e l'operaio chimico a Ponte Nossa, nel 1967 diventa allievo maestro e nel 1971 maestro di sci dopo aver superato gli esami alla Marmolada. Inizia così il suo percorso di maestro presso la storica scuola italiana Sci del Monteporra, dove insegna tuttora. Mi sono sempre divertito, io anche adesso mi diverto, per me è la vita, per quello che voglio smettere, non voglio smettere perché per me mi dà la carica e poi con tutte queste persone, con la gente, sia voi qua, tutti belli, simpatici, allegri, brillanti, come sulle piste, tutti allegri, belli, per me è la vita. Ha visto proprio l'evoluzione dello sci? Ho visto l'evoluzione, guardi, io ho cominciato a fare il primo esame dal 60 che mi hanno bocciato, allora c'era la tecnica di Francesco Fruitt, ma c'è troppo che poi dopo ha avuto un incidente e molto è smettato Albino Alvera. fino al 70 è sempre stato lui Albino Alvera come capo della Coscoma che faceva maestro. Poi sono stato Fink, Hubert Fink, ho visto tutti quei passaggi lì, Hubert Fink ha cambiato completamente la tecnica perché prima la tecnica quella era, quando ad esempio uno stand cristiani, o no, che si scendeva, bisognava girare il busto verso Monte, la famosa apertura. Io che sono duro nelle articolazioni, rimaneva sempre sullo spiegolo e lì mi bocciavano. Bastava poco, eh, poco, tutti a casa. Cioè io a casa, gli altri qualcuno. E allora invece il Fink ha intanto, la tecnica dell'anticipo, invece di fare questo, era di girare il busto verso la direzione che si voleva andare. Da lì ho trovato l'autostrada. Un giorno dovrò più smettere. Asmetterò quando non sto più in piedi. Fino a quando sto in piedi, dopo le mie discese, adesso non sono proprio velocissimi di fare dei giovani, perché in salita sono abbastanza forte. In piano me la cavo e in discesa di traverso, perché se vado dritto non mi fermo più. Chi l'ha visto? Gianni Salvoldi è stato premiato dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, che gli ha consegnato la medaglia di Bergamo in bronzo, una pergamena e il catalogo del sessantesimo di Palazzo Pirelli. È un onore poter premiare oggi qui a Palazzo Lombardia al maestro Gianni Salvoldi, il maestro di sci più longevo d'Italia, che ha saputo tutti i giorni raccontare ai giovani che si approcciano a questo magnifico sport, quello dello sci, la storia di questo sport, come è nato, come si è sviluppato, e soprattutto gli insegnamenti che possono arrivare da una persona di levatura così incredibile che ancora oggi insegna a chi vuole imparare a sciare sulle nostre montagne. Alla premiazione era presente anche la sottosegretaria di regione Lombardia con delega a sport e giovani, Lara Magoni. Una giornata molto importante in regione Lombardia e ringrazio quindi il presidente del Consiglio, Federico Romani, per aver accolto il maestro di sci più longevo d'Italia. Gianni è del 1932 e ancora oggi insegna sulle piste da sci del Montepora. Per noi è un'icona, per noi maestri di sci che rappresentiamo una categoria, una professione molto importante in una regione che rappresenta il 40% e è fatto dalle montagne. Capite bene che è una professionalità molto ricercata. E tra l'altro anche in vista delle Olimpiadi 20 e 26, che per le Olimpiadi, figure come Gianni, come Gianni Salvoldi, sono fondamentali per far comprendere quanta energia, quanta passione per il territorio esiste ancora nelle nostre valli. E adesso è il momento di scoprire, come ogni lunedì, quale tema verrà affrontato nell'appuntamento settimanale con il Sasso nello Stagno. Spazio all'anteprima. Domani sera tornerà il nostro appuntamento con il Sasso nello Stagno, questa settimana da Dorga per parlare di natalità. Infatti sembra da recetti sondaggi che le mamme diventino madri sempre più tardi, over 40. Cosa ne pensate di questo innalzamento d'età per diventare mamme? Giusto, sbagliato, meglio la carriera o meglio la famiglia? Tante domande a Dorga, domani sera, tutte nel Sasso nello Stagno. Adesso una in anteprima. Allora, io trovo che sia sbagliato. Nel senso, io ho avuto mio figlio che avevo 31 anni esatti. E penso sia l'età perfetta, perché poi un genitore deve essere genitore prima di tutto, ma anche un po' amico nel senso che deve capire la generazione del figlio. Cioè, se uno fa un figlio a 40, 45 anni, 50 non ne pensiamo neanche, perché io considero una nonna, cioè voglio dire, c'è un'età per fare qualsiasi cosa. E quindi è il bello di avere un figlio di 25 anni che, anche se adesso genitore, capisco il suo mondo. Io penso sia giusto così. Però è una mia idea. Certo, certo, certo. Noi abbiamo proprio le idee delle persone per strada. E avere un figlio a questa età ha precluso magari qualche possibilità lavorativa? Assolutamente. Ah beh, quando vai a lavorare, è ovvio che se non hai una persona che ti aiuta, deve farsi tutti gli asili, nido, estivo. Sì, i bambini ne soffrono un po', sono sincera. Io non avevo genitori, quindi vabbè. Però poi si abituano e se ne fanno una ragione. Poi i figli, cerchiamo di farli volare un attimino e svegliarli fuori. Cosa dobbiamo? Tenerli lì a far cosa? Cioè, tutti abbiamo fatto la nostra vita, giusto? La nostra pagina degli auguri questa sera dedicata a Claudio Merelli di San Fermo di Fiorano al Serio. Buon compleanno da tutta la famiglia e aggiungiamo volentieri anche gli auguri di Antenna 2. A proposito di Antenna 2, vediamo i programmi di questa sera sulla nostra emittente. Alle 20 la preghiera d'avvento, continua l'appuntamento a cura dell'oratorio di Clusone. Alle 20.10 il calcio con a tutta D e a seguire tempi supplementari. Alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale. Alle 23.10 la partita di calcio Casazza-Vertovese. A mezzanotte e mezza la terza edizione del TG. E chiudiamo con l'almanacco. Domani è martedì 12 dicembre. Il sole sorge alle 7.47 e tramonta alle 16.41. La luna è nuova, sorge alle 7.32 e tramonta alle 15.47. La chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Guadalupe. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per averci seguito. Vi ricordo dopo il telegiornale il TG Sport e le previsioni del tempo. Buona serata. Grazie per aver guardato il video.